Il piacere di Gabriele D'Annunzio. Ecco, concludiamo anche, introducendo alla lettura di questo romanzo, concludiamo il discorso che abbiamo iniziato su Gabriele D'Annunzio. Ecco, è chiaro che il protagonista del romanzo che leggeremo oggi, intanto andiamo ad ascoltare anche in sottofondo un concerto per piano in sol maggiore di Maurice Ravel, che è un contemporaneo di D'Annunzio, addirittura morirà se non ero lo stesso anno in cui muore D'Annunzio, nel senso che D'Annunzio muore nel 37 se non ero, quindi dovrebbe essere proprio... no, muore nel 38 D'Annunzio, un anno dopo. Comunque contemporaneo di D'Annunzio, Maurice Ravel, quello del Bolero. Qua invece un concerto per piano e orchestra in sol maggiore. Allora, dicevamo che Andrea Spirelli è il modello dell'esteta. Ecco, l'arte si identifica totalmente con la bellezza, l'arte vita, no? La vita è un'opera d'arte, ma nel caso di D'Annunzio questa concezione ha caratteri ambivalenti. Dall'altro abbiamo visto che D'Annunzio si pone come ultimo vate, erede di una tradizione umanistica, terzo nella trafila dei moderni dopo Carducci e Pascoli, con tutte quelle connotazioni dell'intellettuale umanista, solitario, separato dalla società, dedito agli studi delle belle lettere. Ecco, quindi, si vuole distinguere rispetto alla massa, dicevamo, si autoesalta e autocelebra come terzo grande poeta del suo tempo e si separa dalla società. Dall'altro si pone come moderno esteta, fa di sé un mito di massa, cavalca le mode, egli stesso crea delle mode. E' il carattere del trasformismo di cui stavamo parlando alla fine della spiegazione precedente. Quali sono le contraddizioni? Questo aspetto della personalità artistica di D'Annunzio ha un carattere anche paradossale e contraddittorio, perché da un lato si pone come mito di massa celebrato in quanto tale, dall'altro come un genio superiore al di sopra delle masse, con un atteggiamento di aristocratica superiorità, che disprezza la società dei consumi e la mercificazione dell'arte. E' contraddittorio, perché da un lato dice questo, ma dall'altro diventa uno strumento, cioè, proprio di questo mercato dell'arte e della letteratura diventa il protagonista principale a cavallo fra 800 e 900. Come si risolve questa contraddizione? L'unico modo è quello di far coincidere arte e vita, privato e pubblico, facendo della propria vita uno spettacolo di se stesso, un oggetto di mercificazione. Come abbiamo accennato la volta scorsa, ecco, eravamo proprio arrivati a questa slide la volta scorsa, no? Nel 1879, giovanissimo, D'Annunzio diffonde la notizia della propria morte, raccoglie una serie di necrologi che lo esaltano come grande poeta e quindi è il primo esempio, e poi ce ne saranno tanti altri nel corso della sua vita, di come lui voglia rendere la sua vita un'opera d'arte. L'arte e la vita coincidono, insomma, l'una è in funzione dell'altra. Per quanto riguarda il simbolismo D'Annunziano, noi parleremo le prossime volte, soprattutto, quando affronteremo, facciamo così questa slide, magari, la rimandiamo alle prossime volte quando parleremo delle poesie di D'Annunzio. Invece ci interessa parecchio il superomismo D'Annunziano. Altro aspetto dell'ideologia D'Annunziana, infatti, è il superomismo, il mito del superuomo, l'idea del superuomo nasce in D'Annunzio dopo la lettura, verso la fine dell'Ottocento, di Nice. Ecco, quindi, attenzione, effettivamente il piacere, in un certo senso, è precedente a questa fase superomistica. Tuttavia, si possono notare già nel piacere alcuni aspetti che poi saranno quelli tipici del superomismo D'Annunziano. Si tratta di una lettura superficiale, dalla quale D'Annunzio trae alcune suggestioni che lo portano a corroborare idee che aveva già in partenza. Esempio, l'esaltazione della volontà di potenza, l'aspetto vitalistico, la gioia di vivere, l'istinto alla lotta e al dominio sulle masse, l'elevazione del singolo uomo privilegiato di sopra delle masse stesse. Insomma, come vediamo, D'Annunzio compie una semplificazione del pensiero di Nice, paragonabile a quella che avverrà qualche decennio dopo da parte dell'ideologia nazionalsocialista. L'arte. Dopo l'incontro con Nice, l'arte per D'Annunzio diventa uno strumento di questo dominio ideologico sulle masse. La parola del poeta Vate deve servire a distruggere la meschinità e l'ipocrisia della democrazia borghese, allo scopo di difendere la bellezza. E questo lo troviamo invece nel piacere. La massa non può capire né apprezzare ciò che solamente il poeta e un'elite riesce invece a capire e ad apprezzare. A livello storico-politico, questo pensiero si inserisce nelle complicate vicende storiche di fine secolo. Dopo il fallimento delle imprese coloniali dell'epoca di Crispi, l'alta borghesia imperialista aveva bisogno di un'ideologia forte, basata sull'ordine sociale e sull'aggressività bellica, come esigenza di riscatto. Il superuomo, nella cui persona si identificano arte e vita, sa imporsi sulle masse, sa manipolarle, sa creare miti e modelli di vita. L'uomo forte, inimitabile, invincibile, pensiamo a Mussolini e ai miti che è riuscito a creare intorno alla sua persona. Ecco la donna. Questo invece è un argomento molto importante nel romanzo del piacere. Il superuomo d'Annunziano subordina tutto al progetto della propria affermazione. In primo luogo la donna è considerata come un oggetto di possesso da domare, da sottomettere alla propria volontà. Tramite la russuria la donna è in grado di avvincere e subordinare l'uomo a sé, però, attenzione. Quindi è vero che, ad esempio, il poeta, il protagonista, eccetera, cerca di possedere la donna. Però spesso i ruoli sono ribaltati. La femme fatale, abbiamo già visto, è in grado lei di avvincere e subordinare l'uomo a sé. Per questo è una forza che l'uomo deve dover vincere per imporre il proprio dominio sulla donna. Questo porta anche ad atteggiamenti aggressivi nei confronti della donna. Aspetto velleitario. Naturalmente tutto ciò c'è un aspetto velleitario. Ecco, c'è infatti un'enorme sproporzione tra la grandiosità degli obiettivi che il superuomo si pone e l'effettiva possibilità di realizzarli. Sicché la sicurezza dei personaggi d'Annunziani è sempre minata dall'ombra della sconfitta e del fallimento. Infatti vedremo in questo romanzo che paradossalmente ci sono questi grandi momenti di esaltazione e accanto a questi però altri momenti in cui prevale una debolezza, una fiacchezza, un riflusso in se stessi. Ecco, infatti in tutti i romanzi e le opere d'Annunziane domina sempre un senso di annullamento totale, di morte, causato proprio da questo senso di onnipotenza dell'io che naturalmente non può realizzarsi pienamente e da qui anche gli aspetti più torbidi e morbosi dei suoi romanzi. Questo soprattutto in altri romanzi, per carità. Però anche nel piacere possiamo osservare il culto decadente della bellezza e appunto l'eros malato, cioè il piacere malato. Ecco, in particolar modo nell'innocente si narra la vicenda che coinvolge Giuliana e suo marito Tullio. Lei resta incinta a seguito di una relazione adulterina e partorisce un figlio. Tullio la perdona, vorrebbe ripristinare con lei, ripristinare scusate il rapporto con lei sbarazzandosi del bambino che fa in modo di lasciare l'aria aperta durante una novena di Natale. Dopo questo episodio l'innocente si ammala e muore, ma Tullio non riuscirà a recuperare la serenità. Oppure anche nelle Vergine delle Rocce, un altro romanzo, sono i romanzi che voi trovate, ecco le Vergine delle Rocce, prima, no, trovate nella trilogia degli assassini, c'è l'innocente e poi le Vergine delle Rocce in seguito. Vergine delle Rocce si narra di Claudio Cantelmo, ecco il Vergine delle Rocce è il romanzo invece in cui emerge in maniera più chiara il superomismo d'Annunziano, è una specie di manifesto del superomismo d'Annunziano. Ecco in questo romanzo Claudio Cantelmo, un giovane esponente di un'antica famiglia nobile e di origine provenziale, si mette in testa un progetto eroico velleitario, eliminare gli effetti della rivoluzione francese del 1989, riportare a potere l'origarchia nobiliare. A questo scopo vuole generare in unione ad un'altra nobile famiglia, Capice Montaga, del regno delle due Sicilie, un figlio che sarà poi messo a capo del nuovo regno. Nella famiglia dei Capice Montaga ci sono tre sorelle, vergini, appunto sono loro le Vergine delle Rocce, e decide che una di loro sarà la madre di questo eroe eccezionale. Claudio sceglie la più bella delle tre, ma questa rifiuta poiché non vuole deturpare il suo corpo con una gravidanza. Anche l'altra sorella rifiuta perché è costretta ad assistere la madre folla e lo esorta a provare con la terza. Claudio deluso rinuncia al progetto. Come vedete la trama delle Vergine delle Rocce in un certo senso ci fa venire in mente il capitolo del matrimonio della coscienza di Zeno di Italo Svevo. Allora, andiamo adesso invece a parlare del piacere. Il piacere, ritorniamo pertanto alla pagina 442, è del 1888, anche se viene pubblicato l'anno dopo, nell'89 da Treves. Abbiamo già sottolineato il fatto che lo stesso anno in cui viene pubblicato il Mastro Don Gesualdo. Nel periodo romano dunque, quindi uno dei primi periodi della produzione della vita di D'Annunzio, rispecchia in pieno le esperienze di vita che D'Annunzio ha avuto in questa fase. La novità è che con questo romanzo entra in Italia l'estetismo che era stato inaugurato dal romanzo Arebour di Hussmann, romanzo francese. Ecco, evidentemente sapete bene che questi due romanzi più il ritratto di Dorian Gray rappresentano i tre grandi manifesti dell'estetismo, romanzi dell'estetismo della fine del secolo dell'Ottocento. Il romanzo è diviso in quattro parti, quattro libri, non segue un ordine cronologico degli eventi rigorosamente logico e infatti in particolar modo questo avviene all'inizio, poiché all'inizio c'è una sorta di anticipazione e poi nel capitolo secondo si torna indietro a presentare il personaggio come vedremo nel brano che leggeremo. Ecco, nel libro primo e secondo la scena iniziale vede Andrea Sperrelli in attesa di Elena Muti, una donna, ma ripeto, è un'anticipazione quindi relativo ad un reincontro diciamo di Andrea e di Elena dopo un po' di tempo che non si vedevano. Elena Muti è una donna molto affascinante e esuberante, ecco dicevamo la fan fatale del romanzo, che era stata la sua amante in passato, con la quale aveva interrotto i rapporti, che aveva incontrato casualmente poco tempo prima, fissando un appuntamento con lei. Da questo incontro però Andrea Sperrelli, che è innamorato di lei, non ottiene quello che vuole, quindi terminato questo capitolo primo, segue un lungo flashback, ecco appunto a partire dal capitolo secondo che adesso noi leggeremo, che praticamente occupa i primi due libri, che ripercorre la sua precedente storia con Elena Muti. Si erano incontrati a un ricevimento mondano a Roma, avevano iniziato a frequentarsi incontrandosi sempre in luoghi molto raffinati della capitale, all'improvviso Elena, che era vedova, si era risposata per interesse e si era sposata con un conte inglese. Andrea quindi si era dato alla vita dissoluta, finché non rimane ferito in un duello, nel quale era stato trascinato dal marito di una delle sue amanti. Si ritira quindi in convalescenza, ecco perché vi dicevo, è vero che questo personaggio diciamo viene esaltato come il grande esteta, eccetera, ma anche momenti di grande ripensamento e di grande incertezza e questo è senz'altro uno di quei momenti. Il momento della malattia. si ritira quindi in convalescenza in una villa al mare di proprietà di sua cugina, la villa Schifanoia. Qui vive con la cugina e conosce un'amica di lei, Maria Ferres, una donna totalmente diversa da Elena Muti, carattere sensibile e delicato di alta spiritualità. Si innamora di lei e inizia una relazione con Maria. Elena e Maria pertanto sono agli antipodi. Quindi se Elena rappresenta il prototipo, dicevamo, della fan fatale che fa innamorare di sé tantissimi uomini e li circuisce, li sa sedurre ed è in grado di dominarli, al contrario Maria Ferres è molto delicata e è un tipo spirituale. Lo sapete, l'abbiamo visto, abbiamo studiato che in questo periodo comunque del decadentismo contemporaneamente si diffonde molto anche lo spiritualismo. Passiamo ai libri terzi e quarti in cui si riprende la storia da quando era stata interrotta alla fine del capitolo primo, capite? Il terzo libro infatti si apre con il ritorno a Roma, si ricollega alla scena iniziale di lui che attende di rivedere Elena Muti dopo un anno. Tutti si ritrovano a Roma, sia Andrea, sia Maria, sia Elena. Andrea è attratto da entrambe le donne, è insicuro. Certe volte è attratto dalla sensualità più imponente di Elena e certe altre da quella più delicata di Maria. Le circuisce usando freddezza e ambiguità, cerca comunque di tenere i piedi in due scarpe. quella che ama in modo più tormentato e viscerale però è Elena Muti. Vorrebbe quasi fare a meno di questo rapporto perché sa che lo ferisce maggiormente, lo fa soffrire di più, però non riesce a farne a meno. Mentre Maria, che lo ama in modo sincero, è usata come un sostitutivo della prima. La situazione è molto complicata. Andrea sembra trarre molto piacere da questo, proprio quando sembra che la sua vita possa continuare in questo modo, così ambiguo. alla fine, durante un amplesso con Maria, nell'impeto della passione, Andrea si lascia sfuggire il nome di Elena. Tutto crolla. Maria fugge inorridita e così termina in questo modo il romanzo. Andrea Sperelli è il vero e proprio alter ego di D'Annunzio, che tra l'altro, come abbiamo studiato la volta scorsa nella biografia, anche lui ha avuto tantissime relazioni con donne differenti, diverse anche di carattere. Nel crearlo ovviamente, D'Annunzio ha attinto infatti molto della sua esperienza biografica. Sperelli è il tipico esteta che vive una vita tutta votata all'arte, che fa della propria stessa vita un'opera d'arte, ha atteggiamenti di superiorità aristocratica, parla della democrazia del tempo come grigio diluvio democratico. Rappresenta la trasposizione italiana dell'eroe decadente sulla base di Desessen, protagonista di Arebours, di Usman o di Oscar Wilde, che D'Annunzio ha assimilato in maniera molto profonda, stupefacente, considerando la sua giovane età, il fatto che il romanzo di Usman era uscito appena quattro anni prima. Insomma, nel 1889, quando il naturalismo e il positivismo sembrano ormai conquistare pienamente la cultura italiana, verga, pubblica in volume, il Mastro Don Gesualdo d'Annunzio dalle stampe il romanzo attraverso cui entra nella nostra letteratura il personaggio dell'eroe decadente. Così, come quasi un secolo prima, l'eroe delle passioni sconvolgenti e assolute, Jacopo Ortis, aveva diffuso la cultura e la sensibilità romantica in Italia, ora il protagonista del piacere, Andrea Sperelli, si fa propulsore e mediatore della tendenza più recente e raffinata della cultura decadente europea, l'estetismo. Come sottolineò Croce, con D'Annunzio risuonò nella letteratura italiana una nota fino ad allora estranea, sensualistica, ferina, decadente. Ecco, quando parliamo, quando usiamo questi aggettivi, quando Croce usa questi aggettivi, evidentemente si riferisce in particolar modo ad Elena Muti, in cui emergono questi aspetti, la sensualità, la seduzione, ma anche la bestialità del rapporto erotismo. Servendosi dei più svariati materiali, soprattutto francesi, Baudelaire, Flaubert, Hussmann, Verlaine, Morea, i pre-Raffaelliti, ecco, nel campo della pittura, Wagner, che non è francese, evidentemente, però ben rappresenta insomma questo passaggio, questa fase particolare della storia della cultura europea verso la fine dell'Ottocento, nel campo della musica. E molti altri ancora quasi volesse costruire con la sua opera, dice Mario Prats, una monumentale enciclopedia del decadentismo. D'Annunzio si propone di uscire dai limiti del naturalismo, non più imitando, ma continuando la natura, e anche gareggiando quasi con lei l'esteta, ecco, si pone questo obiettivo, no? Di creare, apprezzare, raccogliere, collezionare, eccetera, opere d'arte che fanno a gara con la natura. Quindi, inaugurando come piacere un tipo di prosa introspettiva psicologica, che conoscerà in seguito notevoli favori, tenta di scandagliare le complicazioni e le deviazioni della vita mondana e amorosa del protagonista, ultimo discendente di una razza intellettuale, educato dal padre a costruire la propria esistenza come un'opera d'arte. Adesso lo vedremo, insomma, nel brano che leggeremo. Di come Andrea Sperelli abbia preso molti caratteri da suo padre. Il culto dell'arte, la risoluzione della vita stessa nell'arte, quindi tutta quanta la vita che si ricollega a questo, si riduce all'arte. La ricerca del bello di tutto ciò che è prezioso nel più assoluto distacco da ogni convinzione morale, il disprezzo per la volgarità del mondo borghese, accomunano l'Andrea Sperelli di D'Annunzio al Dorian Gray di Oscar Wilde e al Desessens di Hussmann e ne fanno la versione italiana dell'esteta decadente. Non solo, ma l'anima camaleontica, mutabile, fluida, virtuale di Andrea Sperelli rivela quella mancanza di autenticità, di forza morale e di volontà che si ritroverà in tanti personaggi decadenti, carpuscolari, inetti e indifferenti che affollano la letteratura del secolo scorso. Come vi ho detto, a parte questo brano che noi leggeremo del capitolo secondo, libro primo, in cui emerge in una maniera, dicevamo, quasi di grande esaltazione, emergono i caratteri dell'esteta, ci sono comunque in questo romanzo altri momenti invece di grande incertezza, di grande commutabilità, grandi cambiamenti, addirittura, l'abbiamo spiegato per un attimo Andrea Sperelli sembra abbandonare questo paradigma dell'esteta per diventare, sulla scorta della donna che sta amando Maria, per diventare più spirituale, diciamo così. Duplice e ambigua appare dunque questa figura in cui convivono sia il grandioso che il meschino, e in modo altrettanto duplice D'Annunzio si immedesima e si distacca da essa. Quindi è vero che ci sono molti elementi, diciamo, autobiografici nel piacere di D'Annunzio. Qui intanto stiamo ascoltando Sergei Rachmaninov e il suo sempre concerto per pianoforte in sol minore di Rachmaninov. Ecco, stavamo dicendo che si immedesima e si distacca da essa. Allo stesso tempo quindi è autobiografico Andrea Sperelli ma anche l'autore si distacca da lui. Non è un'autobiografia insomma. L'estetismo D'Annunziano inoltre abbagliando e incantando il lettore trionfa nell'elencazione e nella descrizione delle opere d'arte, degli oggetti raffinati e preziosi di cui ama circondarsi la frivola e mondana Roma degli anni Ottanta dell'Ottocento. Nuova capitale, centro del nuovo giornalismo, della nuova editoria. Ecco, infatti, vedremo, ci sono dei riviste, ci sono dei salotti culturali nella Roma dell'epoca di cui Gabriele D'Annunzio è uno dei protagonisti. Non la Roma classica dei Cesari degli Alchi e delle Terme dei Fori che al tempo del piacere aveva essuovato in Carducci, ma la Roma tardo di rinascimentale barocca delle ville, delle fontane, delle chiese era il grande amore di Andrea Sperelli. E questo lo vedremo comunque nel brano che leggeremo. Ma da tutta quella magnificenza aspira un senso di decadenza e di disfascimento per cui Roma sembra adagiarsi tutta quanta d'oro come una città dell'estremo Oriente sotto un cielo quasi latte o diafano in una primavera dei morti grave e soave. Ecco, dicevamo, il senso della decadenza che accomuna la Roma del tempo, la Bisanzio, ad esempio, o la Roma tardo antica. Roma capitale dell'estetismo, infatti, sembra una nuova Bisanzio, capitale del declino imperiale. E il piacere diviene il romanzo della Roma bizantina, chiamata così anche per il titolo di una rivista che era molto in auge all'epoca. Andiamo quindi adesso al secondo capitolo del piacere. Siamo alla pagina 466. In questo brano il narratore fornisce un profilo culturale e psicologico di Andrea Sperelli, soprattutto a partire dalle sue sentenze, dalle sue frasi fatte, insomma, che sintetizzavano le sue scelte di vita. Ma il ritratto che emerge già fatto tutto quanto di luci e di ombre, di grandi qualità anche, ma di pericolosi difetti, a cominciare dalla debolezza della volontà e del senso morale. Ecco, dicevamo, il velleitarismo, la debolezza della volontà. Non riuscire a portare avanti fino alle estreme conseguenze certe scelte. Il conte Andrea Sperelli, fieschi e dugenta, unico erede, proseguiva la tradizione familiare. Egli era in verità l'ideal tipo del giovine signore, il giovine signore. E' un esplicito rimando alla protagonista del giorno di Parini, vi ricordate? Vi ricordate? E mentre Parini l'illuminista stigmatizzava e quindi voleva proprio presentarci gli aspetti negativi di questo giovine signore, al contrario, D'Annunzio lo esalta, ce lo presenta come alter ego suo, diciamo. E' il legittimo campione di una stirpe di gentiluomini, di artisti eleganti, ultimo discendente di una razza intellettuale. Ecco, quindi dicevamo nel senso aristocratico della distinzione del nostro personaggio rispetto a tutti gli altri, insomma. Anche se possiamo notare, in questa citazione quasi di Parini, il senso di una presa di distanza critica. Nello stesso tempo il narratore esalta Andrea Sperelli, ma anche, come abbiamo appena spiegato, se ne distacca un po'. Egli era, per così dire, tutto impregnato di arte. La sua adolescenza, nutrita di studi vari e profondi, parve prodigiosa. Egli alternò fino a vent'anni le lunghe letture, quei lunghi viaggi, in compagnia del padre. Ecco, infatti adesso vedremo l'influsso importante che ha avuto il padre di Andrea Sperelli, no? E poté compiere la sua straordinaria educazione estetica, sotto la cura paterna, senza restrizioni e constrizioni di pedagoghi. La sua formazione, pertanto, non è avvenuta nei luoghi canonici della scuola, ma è avvenuta accompagnando il padre, senza, quindi, dei maestri, insomma, che lo indirizzassero. L'unico suo maestro di vita è stato il padre. I viaggi più che le scuole, no? Le letture, le letture, appunto, dicevamo, libere, piuttosto che non quelle imposte. Dal padre, appunto, ebbe il gusto delle cose d'arte, il culto appassionato della bellezza, il paradossale disprezzo dei pregiudizi, l'avidità del piacere. Questo padre, cresciuto in mezzo agli estremi splendori della corte borbonica, sapeva largamente vivere. Ecco, ci viene in mente qua il gatto pardo di Tomasi di Lampedusa. Perché? Perché il padre di Andrea Sperelli, dice, è vissuto in mezzo agli estremi splendori della corte borbonica. C'era l'ultima, forse, grande corte aristocratica in Italia, nell'Italia meridionale, che aveva resistito fino a quando non ci fu l'arrivo, appunto, di Garibaldi e poi l'unificazione italiana. Evidentemente vista da tutti i risorgimentali come una sorta di anacronismo, di corte anacronistica. A contrario, invece, qua esaltata. Perché lì si sapeva largamente vivere, no? È una sorta, dicevamo, quasi di riproposizione, di rivalutazione, volevo dire, della corte borbonica, che ritroveremo, dicevamo, anche nel gatto pardo di Tomasi di Lampedusa, pur con una prospettiva, è un punto di vista completamente diverso. Aveva una scienza profonda della vita voluttuaria. Attenzione, il padre, che rappresenta un modello per Andrea, proprio perché sapeva molto bene come ricercare il piacere, la vita voluttuaria, vuol dire questo. Si tratta di una scienza profonda, vuol dire, insomma, ovviamente, in questo caso, non semplicemente un qualcosa di teorico, ma qualcosa che si risolveva in una pratica del piacere, no? E insieme a una certa inclinazione bayroniana al romanticismo fantastico. Bayron, infatti, è quel poeta romantico inglese, avventuroso, che ha fatto dei viaggi, anche molto importanti viaggi in Italia, una parte importante della sua vita, i viaggi, abbiamo visto, sono importanti anche per Andrea Sperelli, e che aveva concepito personaggi eroici, ribelli e tenebrosi, e scenari esotici. Lo stesso suo matrimonio era avvenuto in circostanze quasi tragiche, dopo una furiosa passione. Quindi egli aveva turbato e travagliato in tutti i modi la pace coniugale, il padre si era sposato, ma poi di fatto aveva tradito più e più volte la moglie. Finalmente si era diviso dalla moglie ed aveva sempre tenuto seco il figliuolo, Andrea, viaggiando con lui per tutta l'Europa. L'educazione d'Andrea era dunque, per così dire, viva, cioè fatta non tanto sui libri, quanto in cospetto delle realtà umane, cioè alla presenza della realtà viva e non fatta sui libri. Un po' abbiamo già parlato di questa formazione particolare di Andrea Sperelli. Lo spirito di lui non era soltanto corrotto dall'alta cultura, ma anche dall'esperimento. Ha fatto esperienza di certe cose. E lui la curiosità diveniva più acuta, come più si allargava la conoscenza. Fin dal principio egli fu prodigo di sé, cioè insomma fu generoso, fino quasi a consumare tutte quante le sue energie. generoso di sé vuol dire che voleva sperimentare tutto. Poiché la grande forza sensitiva Andegli era dotato non si stancava mai di fornire tesori alle sue prodigalità. Insomma, si caratterezza subito Andrea Sperelli per la sua sensualità, per la ricerca di emozioni estreme. Ma l'espansione di quella sua forza era la distruzione in lui di un'altra forza, della forza morale, che il padre stesso non aveva ritegno a deprimere. Ecco quindi che da una parte quindi si esalta la sua capacità di vivere, vivere e fare tutte quante le esperienze possibili. in base a questa ricerca del piacere fino a se stessa. Dall'altra si distrugge la forza morale, del resto, scusate, è lo stesso padre che svaluta questa forza morale. Insomma, c'è una ricerca della sensazione del piacere esasperata in Andrea Sperelli fin dagli primi anni della sua vita, mentre assente un riferimento morale ed etico. Ed egli non si accorgeva che la sua vita era la riduzione progressiva delle sue facoltà. Man mano che andava avanti, insomma, e faceva esperienze, esperienze su esperienze, è come se lui come dire, perdesse una sua innocenza originaria primigenia e questo evidentemente ci fa venire in mente quello che avviene al protagonista del ritratto di Dorian Gray, cioè Dorian Gray stesso. Riduzione progressiva delle sue facoltà, delle sue speranze, del suo piacere, quasi una progressiva rinunzia. è che il circolo gli si restringeva sempre più dintorno, inesorabilmente, sebbene con lentezza. Quindi il cerchio delle sensazioni, delle esperienze, eccetera, comunque si restringe sempre di più. Il padre gli aveva dato, tra le altre, questa massima fondamentale. Abbiamo detto quindi che queste sentenze rappresentano proprio la sintesi delle scelte di vita di Andrea Sperelli. Egli sono tramandate dal padre. Possiamo, in un certo senso, vedere queste sentenze come una sorta di esatto opposto rispetto alle massime che padron Tony trasmetteva agli altri membri della sua famiglia. Bisogna fare la propria vita come si fa un'opera d'arte. Questa è la massima, cioè la sentenza fondamentale del padre. Bisogna che la vita ad un uomo d'intelletto sia opera di lui, cioè sia opera sua. La superiorità vera è tutta qui. Anche il padre ammoniva. bisogna conservare ad ogni costo intero la libertà fin nell'ebrezza. La regola dell'uomo d'intelletto eccola avere non averi. Cioè vuol dire possedere e non essere posseduti. Essere liberi. Ecco, una libertà libera essere liberi da ogni vincolo insomma. Fin nell'ebrezza. Fino ad arrivare insomma alle esagerazioni. anche diceva il rimpianto il vano pascolo d'uno spirito disoccupato. Insomma il rimpianto caratterizza al contrario chi non riesce ad elevarsi a questo a questo livello. Bisogna soprattutto evitare il rimpianto occupando sempre lo spirito con nuove sensazioni e con nuove immaginazioni. Ecco, in questa in questo rifiuto del rimpianto una una importante massima di vita gli dai il padre cioè goditi tutto non non impedirti non ostacolare niente non impedirti niente in base a leggi morali perché poi altrimenti questo rimpianto ti farebbe star male come dire attutisci le voci della tua coscienza ecco questa è un po' la prima parte del brano che poi finirete di leggere anche a casa la seconda parte del brano si caratterizza invece per la presentazione di quella che è la Roma esaltata da Andrea Sperelli l'abbiamo già spiegato non è la Roma della grande antichità romana Roma ha il suo grande amore sì ma attenzione non la Roma dei Cesari non la Roma dell'antico impero romano del Colosseo dei fori imperiali delle rovine non la Roma degli archi delle terme dei fori ma la Roma delle ville delle fontane delle chiese dicevamo la Roma barocca per esempio attenzione si tratta però ecco tutte le volte che parla della chiesa Andrea Sperelli lo fa in un modo molto superficiale perché attratto diciamo dalla magnificenza della chiesa appunto diciamo le chiese barocche persino anche dai profumi dagli odori che trova in essa non perché assolutamente abbia uno spirito religioso egli avrebbe dato tutto il Colosseo per la Villa Medici una delle più antiche e belle residenze romane con vista panoramica sulla città costruita tra 1566 e 1575 quindi diciamo piena epoca della controriforma il campo vaccino il campo vaccino l'area dell'antico foro romano perché perché era il mercato dei buoi insomma per la piazza di Spagna piazza di Spagna invece è stata costruita appunto a cavallo fra 1500 e 1600 c'è la fontana dei Bernini piazza di Spagna l'arco di Tito l'avrebbe dato via l'arco di Tito quello fatto erigere da Domiziano alla fine del primo secolo dopo Cristo in onore del predecessore Tito l'avrebbe dato via per la fontanella delle tartarughe e questa è davvero una delle opere più barocche possiamo dire di Roma mostra dei fanciulli che sollevando le braccia aiutano delle tartarughe a salire nella vasca superiore ideata da Giacomo della Porta realizzata da Taddeo Landini nel 1585 completata da Bernini ancora una volta questo grande artista del 600 barocco insomma la magnificenza principesca dei Dolon scusate dei Colonna dei Doria dei Barberini la traeva assai più della ruinata grandiosità imperiale si tratta delle famiglie famose famiglie romane che avevano tra l'altro dato alla chiesa papi e cardinali preferiva queste rispetto alla grandiosità imperiale il suo gran sogno era di possedere un palazzo incoronato da Michelangelo e storiato dai Caracci come quello Farnese il palazzo Farnese i Farnesi erano appunto una delle famiglie che poi diciamo ebbe anche dei papi ecco per esempio i Farnese Annibale Caracci Carracci con due R attenzione e anche il fratello Agostino Carracci sono chiamati nel 1594 dal cardinale Edoardo Farnese a decorare appunto il suo palazzo questo è un po' il sogno di Andrea Sperelli ecco sintetizzando enormemente dopo questa introduzione questa spiegazione eccetera si dipanano tutte quante le vicende che abbiamo visto che abbiamo sintetizzato anche in precedenza vorrei sottolineare questo che dopo comunque la convalescenza perché era stato ferito in un duello Andrea Sperelli vuole sperimentare un piacere nuovo possedere insomma una donna casta e pura Maria che dicevamo esattamente l'opposto di Elena apparentemente Andrea impreda una crisi mistica e spirituale in realtà il cambiamento di vita è solo momentaneo ed è perfettamente in linea con i canoni dell'estetismo poiché il protagonista è condannato alle passioni effimere e quindi vede anche questa avventura tra virgolette matrimoniale spirituale con una donna molto più casta e pura come Maria come una specie di suo capriccio e questo risulta evidente come abbiamo già detto alla fine del libro quando lui pronuncia quel nome il nome di Elena proprio nel pieno di un rapporto d'amore con la con la moglie con la moglie Maria a questo punto una volta che lui si svela davanti a Maria Maria non può fare altro se non scappare via insomma richiudere la porta dietro di sé si conclude così il piacere di Gabriele D'Annunzio grazie a tutti